colomba ma mi riferisco alla colomba pasquale come per il panettone il pandoro anche il nome colomba è riservato solo a quei prodotti che contengono ingredienti di qualità e rispondenti ad un preciso disciplinare di produzione che prevede attenzione prendete nota la seguente etichetta farina torlo d'uovo di categoria a non inferiore al 4 per cento burro non inferiore al 16 per cento zucchero 15 per cento di canditi oltre al lievito naturale tutto questo questa questa ricetta è per evitare che i prodotti scadenti ed economici come ad esempio i grassi diversi dal burro oppure gli ovoprodotti sostituiscono quelli di qualità controllate che l'alveatura della lievitazione sia uniforme al centro della com a della colomba e soprattutto al di sotto della carta che protegge i fianchi la glassa che sta sopra deve essere ben aderente alla crosta e non deve mostrare bruciature il colore della pasta deve ricordare il giallo delle uova non a caso appena aperta la confezione deve liberarsi un prodotto profumo gradevole senza senza la prevalenza di quello della vaniglia o meglio della sintetica vanillina controllate che nel fondo della busta della non ci sia sì della busta non ci sia una parte della glassatura e guardate anche la quantità di mandorle presenti all'interno della colomba o anche sopra sulla confezione deve essere scritta la esplicita tradizione colomba perché in commercio ci sono molti dolci di pasqua del tutto simili nella forma nel colore alle colombe ma con ingredienti di scarsa qualità come gli oli o i grassi vegetali in sostituzione del burro quindi state molto attenti soprattutto all'etichetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti